La 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 Jsem jenom já a drink Taky mi v tu chvíli začínají volat kamarádi Tak to zvedám a říkám Dáme party Lala la 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 Non ho vediato, non ho sentito, che non è il giorno non è un giorno, che non ho sentito, non è stato un giorno, mi chiamato, mi ringrazio, non ho sentito, non ho sentito, non ho sentito. E' quello che fa succedereeli, è la legge communication in dura, è bigger della stesa, è veramente quello che vuoi in nostra parte! Ma non sì, ci mettiamo partito! Vi dà che? Gaudo? Grazie a tutti.